Tra la spiaggia di Sassonia e quella del Lido esiste una zona in possesso di una grande forza di attrazione turistica che la città fino ad un recente passato ha poco sfruttato. È la zona del porto. È un ambiente suggestivo che per coloro che risiedono in una località senza mare costituisce un luogo tutto da scoprire. Ed ecco allora che il porto ha assunto una nuova dimensione, divenendo la sede ideale per realizzare un eco-museo. Tutto risiede in un progetto che inizia il suo percorso nella Scimitar. La Scimitar fungerà da centro di interpretazione turistico-culturale. Vuole essere l'approccio del turista, del visitatore che arriva nella città di Fano nel conoscere la nostra tradizione, la nostra identità marinare. È un luogo dove ci saranno ovviamente le persone ad accoglierti e che ti potrà far girare nelle magiche stanze dello Scimitar e così dare le giuste suggestioni, darti la voglia di continuare un percorso che poi tocca veramente tanti altri punti della zona porto. Lo Scimitar poi relaziona con altre strutture che sono vicine appunto a questa barca, sempre in ambito portuale. Sì, siamo nella fase di progettazione, quindi poi dovranno studiarlo bene i progettisti, ma da oggi lo studio prevede, oltre allo Scimitar che è il punto iniziale, l'idea di una videosfera che sarà posizionata proprio qui a fianco, proprio vicino l'attuale punto IAT, l'ex casa del genio civile. Due luoghi che con tecnologia e materiali che arrivano dalle famiglie dei pescatori della città possono raccontare bene la tradizione marinara. Non è solo quello, ci sarà un film diffuso perché l'intenzione è proprio portare le persone a vedere i luoghi della nostra tradizione marinara, come lo sono il Gugul, come lo sono la Darsena Georgina e la Darsena Pipeta, come sono l'asta del pesce o ad esempio Molo di Ponente con i quadri dei pescatori. Ecco, e poi prendere questa magica passeggiata romantica che praticamente dalla Darsena Borghese porterà verso il Faro e trovare a metà strada appunto l'ex asilo Manfrini, che di fatto diventerà il vero museo marinara della città, che entrerà proprio nella rete museale della città di Fano e continuare nella passeggiata, nella magica Darsena Borghese, il vecchio porto della città, riqualificato di tutto punto con questo magico video che appare proprio al fianco della Darsena, che anche questo potrà raccontare una storia. Ecco, l'idea è proprio raccontare una storia, dare le giuste suggestioni, raccontare in 5 o 6 posti chi siamo, il mondo dei pescatori, le persone che hanno vissuto in mare, l'innovazione che fanno a portato al mondo della pesca e tutto quello che abbiamo da raccontare nel mondo della marineria. Chi è coinvolto nella redazione di questo progetto? Comune di Fano, quindi Assessorato alla cultura, Assessorato al turismo, con il Ministero, in uno specifico l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, con l'itinerario culturale del Consiglio d'Europa, la Rotta dei Fenici, con il quale dialogheremo perché vogliamo che questo Ecomuseo dialoghi con tutti gli altri Ecomusei della marineria per raccontare a tutto il mondo che l'Italia è forte di una tradizione marinara e in questa forte tradizione marinara ci entra pieno anche Fano. Vediamo qualcosa entro la prossima estate? Sì, noi abbiamo un obiettivo forte, quello di iniziare il progetto già a inizio del prossimo anno e stiamo lavorando con questo, con i progettisti, con il Ministero e con i nostri uffici.